Benvenuti, bentornati, ben ciao, io sono Kakei, l'essere umano molto molto umanoso oggi e siamo qui con un nuovo video, un nuovo video molto a richiesta perché mi è stato richiesto per l'appunto da una persona di raccontare l'odissea visto che questa persona era ignorante e non la conosceva. Ma ci pensa Kakei, vi spiego tutto quello che volete e quindi questa è l'odissea secondo Kakei. Ulisse va alla guerra di Troia contro una Troia, vince la guerra, poi inizia a scappare dal mare, incontra un Polifemo che ha un occhio solo ma si chiama Polifemo, Polifemo incontra nessuno, nessuno gli dice che si chiama Ulisse, Ulisse cieca Polifemo ma in realtà è nessuno e quindi Plutone si incazza. Ulisse inizia a scappare da Plutone, il mare lo vuole buttare nel mare e finisce su un'isola con una Troia che trasforma i suoi compagni in proci. Dopodiché Ulisse riesce a fuggire, torna dopo una svarione di avventure alla sua casa dove i porchi stanno cercando di stuzzicare sua moglie e incazzato con un arco trafigge la gola del porco che muove, non si trasforma in un potatore di stelle. E questo è Ulisse che vince e sbomba Penelope tutta la sera, tutte le mattine.